Ben trovati da Andrea Lazzara con le previsioni del tempo di Arpal. La Liguria è ancora interessata seppur marginalmente da una circolazione depressionaria centrata sulle regioni centro-meridionali. Da domani a mie espansione dell'alta pressione e ritorno del sole su tutta la Liguria. Il dettaglio, oggi martedì 2 maggio, annuvolamenti irregolari più consistenti sui versanti padani, spazi soleggiati costieri sempre più ampi a partire da Ponente. Venti forti da nord-nord-est con raffiche fino a Burrasca, 70-80 km orari, maggiori sui rilievi. Mare mosso sui capi esposti di Ponente, stirato sotto costa altrove. Temperature massime in aumento sul centro Ponente con locale Favonio a Ponente lungo la costa, comprese tra 20-23 gradi, nelle zone interne tra 17-20 gradi. Domani mercoledì 3 maggio soleggiato, residui annuvolamenti al mattino a Levante, il rapido dissolvimento. Venti al mattino traforti di Burrasca da nord-nord-est in rapida attenuazione. Mare mosso sui capi esposti di Ponente in calo, stirato sotto costa altrove. Temperature minime stazionari, un lieve aumento lungo la costa tra 14-16 gradi, nelle zone interne tra 10-13 gradi. Massime in aumento lungo la costa tra 21-23 gradi, nelle zone interne tra 20-22 gradi. Dopodomani, giovedì 4 maggio, giornata con cieli terzi e clima prettamente primaverile. Venti deboli in prevalente regime di brezza. Mare poco mosso, quasi calmo. Temperature minime in calo lungo la costa tra 14-16 gradi, nelle zone interne tra 10-14 gradi. Massime stazionari in aumento nell'interno, lungo la costa tra 19-22 gradi, nelle zone interne tra 21-22 gradi. È tutto, studiate e aggiornamenti su arpal.ligure.it, sui social d'agenzia, compreso il canale Telegram. Ricordate di scaricare l'app Meteo 3R disponibile su Google Play e Apple Store. Risentirci!